La mia prestazione vale a poco, ho giocato bene o male, vale a poco, il risultato è stato negativo, valutiamo la prestazione della squadra. La squadra al primo tempo ha fatto quello che poteva, secondo me ha fatto anche un buon primo tempo, cercando di essere accorti, cercando di far male come avevamo preparato. Secondo me il primo tempo non abbiamo fatto male, abbiamo fatto discretamente, però purtroppo il secondo tempo abbiamo preso subito quello sfortunato e poi da lì non siamo stati in grado di reagire, perché effettivamente poi dopo le forze erano poche, anche nei cambi, nelle cose eravamo veramente rimaneggiati. Ne parlava anche Le Crottaglie e ha detto, stava dicendo quello che stai dicendo adesso tu, questa squadra questa sera, ma non solo questa sera, prende gol e va in difficoltà, ma soprattutto nel secondo tempo dopo il 2-0, partita che si poteva ancora mettere, riaprire, insomma si è vista una squadra rassegnata, arrendevole, quasi sicura di perdere questa partita. Non è l'atteggiamento giusto questo? Ma non è l'atteggiamento giusto no, però purtroppo in campo quando ti rendi conto che la giornata non è quella giusta, non è quella buona, a volte queste partite possono anche finire con passivi più grandi. Noi dal canto nostro ce l'abbiamo messo tutta, potevamo in qualche circostanza gestire meglio la palla, essere più determinati nel fraseggio, quello lo dovevamo fare, perché avevamo le caratteristiche in campo di giocatori, di palleggiatori, come Palmiro, Melegoni, Clemenza, tutti i giocatori bravi nel palleggiare, però siamo stati anche lì in quei frangeni lenti e impacciati e poi dopo diciamo che le difficoltà si sono aumentate. Ecco, forse proprio dal palleggio in fase di ripartenza sono venute le pecche del primo tempo perché lì potevate fare qualcosa di più, ne dicevamo anche con le grottaglie, ma non ti chiedo questo, ti chiedo in virtù dell'analisi che abbiamo fatto prima sul primo tempo, il rammarico è aver subito gol dopo quattro minuti in maniera sfortunata, magari la partita poteva andare sulla falsariga del primo tempo e nel finale chissà? Sì, era quello, noi così avevamo preparato la partita, abbiamo preso il gol in modo sfortunato, dopo lo rivedo, ma è chiaro il gol che abbiamo preso in modo molto sfortunato, lì ci ha tagliato un po' le gambe e poi non siamo stati a giocare nel fraseggio perché loro venivano forti ad aggredirci, noi dovevamo essere bravi nei primi passaggi a deludere e non l'abbiamo fatto. Devo rivedere il primo gol perché se non erro il primo gol è avvenuto proprio da un errore di fraseggio. Al limite della vostra rete rigore sul disimpegno? Sì, sul disimpegno, adesso non ricordo chi aveva la palla, però questa era la partita dovevamo essere bravi lì nel ripartire nel fraseggio e nel creare problemi, perché loro venivano forti, dovevamo eludere i primi tempi di pressione, però eravamo decisivamente molto lenti e forse facevamo pure qualche tocco di più con la palla. Alessandro, volgiamo lo sguardo alla gara di domenica a Benevento, una gara per te particolare perché tu sei un beneventano doc, giocherai nello stadio della tua città, incontrerete un Benevento che sta ammazzando il campionato, si giocherà però a porte chiuse e questo è un piccolo vantaggio? Il Benevento è una squadra ammazzacampionato, un organico di spessore, certamente non si faranno influenzare dall'assenza di pubblico, loro comunque vorranno riscattare il passivo pesante dell'andata, quindi sono arrabbiati. Benevento non potrà vincere tutte le partite fino al termine del campionato, crediamo, sarebbe la prima volta nella storia del calcio. Cercheremo di essere noi la bestia nera, di farne perdere due, le perde tutte e due con noi.